Dov'è un sorriso che ti apre la porta? Perché è il sorriso la prima cura Dove con le mani viene disteso il tuo dolore? Dove scegliamo di muoverci insieme? Per arrivare ad un giusto equilibrio Perché è insieme che vogliamo trovare la soluzione Per essere all'altezza del percorso Che abbiamo deciso di fare Per guardare verso quella strada Che porta i tuoi sogni Più sereni Per essere all'altezza del percorso Per essere all'altezza del percorso Per essere all'altezza del percorso Grazie per la visione